Al Via La Domani, martedì 22 dicembre, l'area pedonale urbana, la zona traffico limitato nell'assetto definito per tutto l'anno, approvato dall'Aggiunta lo scorso ottobre, secondo gli orari che si differenziano in due periodi, invernale 5 novembre e 31 marzo, estivo 1 aprile 4 novembre. Con il nuovo orario non si potrà circolare con le auto in centro storico dalle 10 alle 14 e dalle 17.30 alle 22, stessi orari avrà anche la 0 ATL, come pure dalle 10 del sabato ininterrottamente fino alle 4 del lunedì successivo. Nei weekend, nei festivi infrasettimanali e dal 24 dicembre a 6 gennaio le auto potranno transitare solo dalle 4 alle 10. L'avvio dell'area pedonale urbana durante i giorni di festa sono sicura che contribuirà a favorire per quanto possibile le presenze in centro storico inaugurando una nuova fase per l'intera città, te sarà molto tempo. Anche in queste festività natalizie, nonostante saranno condizionate dalle misure restrittive anti-covid disposte da governo, abbiamo voluto valorizzare il centro storico, incentivare la spesa di vicinato per le festività con agevolazioni per il parcheggio di Santa Chiara, illuminando il centro con luci natalizie, rendendolo caldo e accogliente per un Natale che sarà purtroppo diverso e difficile, ma che auspico si possa riscoprire nel suo spirito regionale più profondo, afferma il sindaco Anna Maria Casini. Finite le proroghe, il comune pasta l'attuazione del piano per il centro storico, che rischia però soprattutto in concomitanza con le già complesse direttive ministeriali per gli spostamenti, di confondere ancora di più l'utenza.